Via libera all'assunzione di 30 lavoratori interinali per sei mesi all'ATM, quanto emerso al termine della riunione convocata con i sindacati per ieri pomeriggio dal direttore generale facente funzione dell'azienda Trasporti Natale Trischetta. La questione procedurale verrà approfondita da ATM e ritornerà a gennaio nuovamente in Consiglio Comunale, come previsto nella delibere 86C. La speranza è ora quella di estendere il contratto a tutti e 45 gli autisti rimasti disoccupati lo scorso 16 agosto. La norma di riferimento racita infatti che i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale potranno continuare a prevedere una durata diversa, anche superiore rispetto al nuovo limite massimo dei 24 mesi, formulando una deroga assistita con causale da applicare in casi straordinari, proprio come quello dei 45 lavoratori ATM. Di fatto la stessa legge e le successive circolari del Ministero prevedono che la contrattazione aziendale, ove si ravvedano le necessità, permetta di derogare ai vincoli imposti dal decreto dignità e a questo è servito l'accordo appena sottoscritto tra ATM e sindacati, spiegano il segretario generale della UIL Ivan Tripodi e il segretario della UIL Trasporti Michele Barresi. Accordo che potrà dare il via libera alle assunzioni degli autisti interinali bloccati dal 16 agosto da un parere, secondo il quale, in sostanza, prorogare i contratti avrebbe creato le condizioni per le assunzioni a tempo indeterminato. Le procedure di assunzione saranno intanto attivate per 30 lavoratori, 30 operatori di servizio, come spiega Letterio D'Amico, segretario provinciale della FIT CIS, attraverso avviso pubblico e selezione curata direttamente dal centro per l'impiego. L'obiettivo è però quello di arrivare all'assunzione di tutti e 45 lavoratori attraverso un protocollo d'intesa che verrà sottoscritto nei prossimi giorni. Nell'ultima riunione in comune sulla riorganizzazione della mobilità cittadina era stato proprio il segretario generale della Cisle Messina, Tonino Genovese, a chiedere personalmente di procedere all'avvio in servizio dei lavoratori interinali.